buonasera a tutti e benvenuti al webinar di oggi che tratterà l'argomento un argomento molto utile sentito ultimamente l'argomento del super bonus del 110 per cento per educazione parto con la presentazione mi presento sono giulo smarrazzo area manager urmet e vi lascio subito qualche qualche veloce informazione sul sul funzionamento dell'applicativo in alto a destra trovate una sezione domande nella sezione domande vi sarà possibile porci dei quesiti a cui poi risponderemo nell'apposita sezione prevista durante la presentazione sempre nella stessa dashboard trovate la sezione documentazione alla quale vi sarà possibile scaricare le slide che andremo a presentare stasera per poi poterne usufruire in diciamo in un secondo momento in differenza comunque vi ricordo che il webinar di stasera come da usanza urmet sarà sarà registrato e sarà messo disponibile online sia su youtube che sul nostro sito urmet.com e prima di partire mi sembra corretto e doveroso presentare i colleghi della tre i group di oggi che sono Gianluca Gualco e Mirko Balachia la tre i group è un gruppo imprenditoriale che nasce nel 1984 e si occupa di ingegneria e progettazione consulenza e formazione sia in campo civile che in campo industriale con particolari focus ed ecco perché sono qui con noi stasera sull'efficientamento energetico l'ambiente e la sicurezza quindi possiamo dire che sono esperti in tal senso e quindi prima di passare magari la parola Gianluca e conto che ci sono circa 400 iscritti al corso e spero che Gianluca non si faccia prendere dalla timidezza perché in questo momento ce ne sono sono online 438 persone quindi se sei timido scappa se non sei intimido in bocca al lupo Gianluca a te la parola allora guarda ho tanti difetti ma la timidezza non fa parte di questi buonasera a tutti mi presento molto brevemente io sono Gianluca Gualco sono uno dei partner della azienda sono un esperto gestione energia e un manager per la sostenibilità oggi vorrei darvi un'infarinatura molto larga di quello che è il 110 per cento per poi portarvi ad una parte invece più tecnica che farà il mio socio Mirko per entrare più proprio nella parte tecnica generale partiamo però perché mi piace fare questo mi piace sempre partire da uno stato di fatto da una situazione no in che situazione siamo oggi l'Italia è un paese bellissimo un paese bellissimo estremamente complicato dal punto di vista delle norme ed estremamente strano dal punto di vista di patrimonio edilizio abbiamo un patrimonio edilizio che è stato costruito di media la media italiana dell'anno di costruzione delle case è del 1950 circa gli impianti all'interno delle case come media sono stati costruiti alla fine degli anni 70 quindi ci ritroviamo sicuramente in un momento dove il patrimonio edilizio deve essere ristrutturato di fatto un po per fine vita di alcune cose in più perché è facile oggi andare a fare qualcosa di meglio di quello che c'è siamo anche in una situazione dove non ci sono stati mai per lo meno da quello che ricordo io io faccio questo mestiere da vent'anni sicuramente ci sarà qualcuno che lo fa da più tempo di me non ci sono mai stati momenti in Italia dove ci sono stati interventi strutturali significativi sugli edifici quali tipo di edifici ovviamente parliamo di edifici residenziali condomini case singole non hanno mai avuto un incentivo e una spinta per andare a sistemarsi in maniera significativa ma tutti questi interventi sono stati sostituiti di fatto da interventi manutentivi dell'ultimo minuto mi si è rotta questa cosa la cambio a non c'è più perché è vecchia devo fare qualcosa di nuovo in più ci siamo accorti in questo periodo che principalmente gli interventi che sono stati fatti questi interventi minuti manutentivi o di sostituzione sono fatti principalmente sulla parte termica la caldaia che mi si rompe il chiller che non mi funziona più e pochissimo è stato fatto sulla building automation sui sistemi di controllo c'è veramente molto 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 poco noi abbiamo realizzato per il super bonus 110 circa 800 studi di riqualificazione che sono divisi diciamo un 70 75 per cento sulle case singole o su unità abitative comunque familiari quindi con le due unità dove vive la sorella le due sorelle o la mamma coi figli e per la restante parte con i condomini devo dirvi che in tutti questi studi qua non c'è quasi mai successo di trovare un sistema di controllo che sia perlomeno adeguato all'anno in cui viviamo questa situazione ci pone in grande difficoltà con la direttiva europea 27 dove l'europa ci dice guardate che dovete abbassare i vostri consumi di co2 perché ambientalmente dobbiamo farlo non sto a spiegarvi nemmeno come mai e quindi che cosa è successo il governo ha messo in atto tutti questi anni tutta una serie di incentivazioni di incentivi di fiscalità di bandi che hanno coperto molto bene la parte legata agli impianti fotovoltaici lo sappiamo tutti si sono installati impianti fotovoltaici dappertutto con i vari decreti fer chiunque aveva un tetto e aveva capito come come funzionava ha fatto un impianto fotovoltaico dal punto di vista industriale i lavori sono stati molti perché tutti i vari soldi che arrivano dall'europa con i vari bandi por i bandi porfese quelli per lo sviluppo sostenibile hanno portato molto denaro nella cassa dell'industria così come l'industria 4.0 la parte di conto termico ha fatto ci ha fatto lavorare molto bene dal punto di vista della pubblica amministrazione gli sgravi fiscali del 50 75 per cento non hanno funzionato perché vi dico che tanto per darvi dei numeri fino a quando c'era il vecchio 75 per cento sui condomini noi facevamo due tre condomini all'anno ma questi condomini lo facevano non per una volontà di fare ma perché appunto c'era un intervento manutentivo tale che gli conveniva fare qualcosa in più per poter arrivare ad avere il 75 per cento il governo quindi che cosa ha deciso lo ha deciso per due grandi motivi principali il primo per far ripartire un settore che un settore ricordiamoci quello delle costruzioni che un settore trainante per il pil italiano è un po per rispettare quello che è questa direttiva l'europea che ci obbliga ha deciso di inserire questo bonus che addirittura era nato come un bonus 120 per cento se vi ricordate l'anno scorso ad marzo aprile quando abbiamo cominciato a parlarne addirittura si parlava di un bonus 120 quindi oggi diciamo che ci sono le condizioni ideali per riuscire a fare dell'efficienza energetica e per inserire degli interventi mirati per creare quello che è un reale valore no un po per tutti quando e quali spese quindi entriamo un pochino di più all'interno del bonus 110 per cento fino a quando il 110 dura durerà ad oggi noi sappiamo che il super bonus 110 è partito dal primo luglio 2020 quindi tutte le spese documentate e attenzione le spese documentate vi dico già una cosa tecnica le spese documentate con un documento e con un titolo autorizzativo aperto quindi con una scia con una cila con una cisa hanno qualsiasi nome ormai chiamiamo la vecchia scia con un documento presentato e aperto con una spesa documentata quindi una fattura quietanziata che deve essere pagata tramite il solito bonifico il vecchio bonifico per l'eco bonus quello tracciato e tutte le spese devono essere quietanziate in questo modo dal primo luglio 2020 oggi fino al 31 dicembre 2022 attenzione però solo per la parte dei condomini e per i condomini che a metà dell'anno prossimo al mese sedile dell'anno prossimo avranno delle opere aperte dove ci sono stati fatti degli stati avanzamento lavori per almeno il 60 per cento dell'opera possono essere portate al 110 per cento non è tutt'oro quello che luccica ovviamente ci sono dei problemi ma ci sono anche delle soluzioni allora diciamo che la prima cosa contro cui ci si ci si scontra è il fattore del tempo lo stiamo leggendo dappertutto c'era un articolo ancora sul sole 24 un paio di giorni fa ce lo dice l'associazione nazionale costruttori edile ce lo dicono le varie associazioni di categoria abbiamo due questioni sul tempo la questione numero uno è che per fare una pratica 110 per cento è necessario avere una piena conformità urbanistica e catastale questa piena conformità può essere ricevuta solamente se riesco da fare un accesso agli atti all'interno del mio comune ed avere la pratica edilizia che è stata consegnata problema numero uno i comuni sono quasi tutti in smart working e gli uffici non sono strutturati per ricevere una mole di lavoro tale pensate che gli accessi agli atti vi parlo del piccolo comune dove abitiamo noi che un comune da 100 mila abitanti che è l'alessandria riceveva circa 10 accessi agli atti alla settimana oggi ne riceve circa 50 al giorno metà del personale in smart working valutate voi quanti tempi quali sono i tempi per ricevere questa documentazione in più non si era mai fatto niente quando parliamo di tempi perché molti i tempi di ritorno dell'investimento di molte delle cose che ci racconteremo oggi sono molto lunghi c'è il tempo di ritorno dell'investimento di un impianto fotovoltaico sappiamo benissimo che su una villetta su una casa singola se il tempo di ritorno sta intorno agli 8 9 anni dobbiamo fare i salti di gioia ci sono condizioni economiche difficili perché siamo in una condizione economica molto complessa dal punto di vista lavorativo perché molta gente ha perso il lavoro è in cassa integrazione all'interno dei condomini stiamo vedendo che l'amorosità sta salendo un problema di fiducia perché per fare un lavoro legato al 110 per cento bisogna fidarsi bisogna fidarsi molto di chi progetta bisogna avere una grande fiducia nelle istituzioni perché il 110 per cento di fatto è un bonus che ti lascia allo stato quindi devi essere sicuro di quello che fai e non in ultimo una grandissima complessità vi assicuro noi siamo principalmente una società di ingegneria noi siamo progettisti vi assicuro che era molto difficile per 3i vedere entrare dalla porta fino a qualche tempo fa un cliente privato perché siamo una società di ingegneria che comunque fattura circa tre milioni e mezzo di euro di carta tutti gli anni e nessuno veniva da noi per chiederci la ristrutturazione di casa sua cosa che è cambiata immediatamente quando la gente ha cominciato a capire le complessità del super bonus che sono c'è una difficoltà oggettiva nel scegliere che cosa fare perché pochissimi sanno di che cosa stiamo parlando e c'è una seconda difficoltà attenzione lo dico sempre non stiamo mandando un missile nello spazio fare un progetto di legato super bonus 110 per cento non è complesso scusate non è difficile perché stiamo sostituendo degli infissi stiamo montando della building automation stiamo montando un impianto fotovoltaico stiamo installando un sistema ibrido non è un lavoro difficile è un lavoro però estremamente complesso perché per arrivare alla fine di questa di questa pratica bisogna ragionare in un modo in cui in italia non siamo pronti nel senso che siamo abituati a lavorare in una maniera diversa ma vi racconterò poi dopo qual è perlomeno il mio pensiero e il pensiero di 3i di come bisognerebbe approcciare questi lavori i problemi però come sempre hanno anche delle soluzioni allora sicuramente attraverso l'efficienza energetica siamo in grado perlomeno di abbattere la spesa energetica e quindi una difficoltà di gestione della propria casa della propria spesa corrente sicuramente la condizione economica oggi con il bonus 110 per cento e qui devo fare un appunto importanti importante la condizione economica quindi l'investimento che il proprietario di casa deve fare è estremamente migliorato perché perché come sappiamo tutti il 110 per cento quindi questo bonus fiscale può essere ceduto e oggi esistono istituti di credito addirittura le poste italiane lo comprano imprese società grandi società che fanno la general contractor parlo di enel x eni la snam la tep si possono comprare questo credito di imposta e alcune addirittura fanno un prestito ponte a chi cede quindi al nostro cliente per poter fare queste opere devo dirvi immediatamente una cosa però vi parlo per esperienza personale è difficilissimo che nella condizione della casa singola l'utente riesca effettivamente a fare un super bonus 110 per cento senza metterci nemmeno una lira cioè bisogna partire dal presupposto che un pochino di investimento da parte del cliente finale va fatto sulle pratiche che ho visto io in questo momento vi posso dire che questa condizione si parla di un 10 barra 15 per cento dell'investimento alcuni clienti di casa singola sono andati a zero è vero ma sono pochi la media parliamo di un investimento del 10 15 per cento quindi che cosa significa faccio 100 mila euro di opere legate al bonus 110 probabilmente riuscirò a portarli in detrazione 90 che mi verranno sicuramente comprati quindi quei 90 riuscirò a non metterli ma un 10 mila euro dovrò metterci quindi questa è una cosa importante da dire a tutti quando invece cominciamo a parlare di condomini questa problematica non esiste più cioè con il lungo con l'aumento del numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e adesso vi spiego come mai questo problema non c'è più perché perché come sapete i massimali di spesa che si possono portare in detrazione derivano principalmente da due fonti la prima fonte è un moltiplicatore che lavora sull'unità immobiliari che compongono l'edificio quindi casa singola moltiplicatore 1 per vi faccio un esempio per installare un cappotto termico io su quella casa singola ho 50 mila euro ecco che vediamo che se incominciamo a vedere che questa casa singola incomincia ad essere una casa di più di 200 250 metri quadri dove voglio fare cappotto dappertutto questi 50 mila euro non mi sono bastevoli perché dentro quei 50 mila euro ed è un bene per noi c'è lo studio di fattibilità preliminare che per capire che cosa devo fare il progetto la direzione lavori la sicurezza l'installazione la posa le assicurazioni i visti di conformità finali tutte queste cose vanno al 110 per cento tutte però vanno su quel capitolo di spesa è altresì ovvio però che nella condizione invece diversa dove lavoriamo su edifici più ampi allora questo non è più un problema nel senso che questo moltiplicatore sia la seconda cosa che dobbiamo fare e ci tornerò sopra dopo è che tutte queste opere devono essere computate perché la norma prevede che per portare in detrazione il 110 per cento questa spesa deve essere di fatto avvallata da un tecnico e questo tecnico lo può fare solamente prendendo facendo un progetto un computometrico prezzando questo computometrico in ordine vi dico come con preziario regionale o preziario il dei l'unico preziario nazionale sensato che abbiamo in mancanza di questo può fare un'analisi prezzi in mancanza dell'analisi prezzi può creare un prezzo dal punto di vista analitico e poi solo in ultima razio può andare ad appoggiarsi all'allegato i del dm 34 che dice che per esempio per l'installazione di sistemi di building automation io 50 euro al metro quadro fatevi due conti su una villetta da 100 su una casa su un appartamento da 100 metri quadri un appartamento tipico italiano con le due camere diretto sala cucina due dagni fatevi due conti se voi il sistema di building automation con 5000 euro riuscite a farlo ve lo dico io no perché c'è il progetto c'è l'installazione ci sono i materiali non si riesce quindi è ovvio che bisognerà fare un computometrico e farlo prezzare ma torniamo alle soluzioni è importante anche dire che sicuramente il valore dell'immobile dove noi operiamo un super bonus 110 aumenta aumenta per due motivi non lo dico io lo dice l'osservatore del sole 24 e del della fiaip che è la federazione italiana di amministratori di proprietà italia dicono una cosa molto semplice il valore dell'immobile cresce a seconda che si riesca ad applicare un bonus 110 quindi ad aggiungere delle classi a raggiungere delle classi energetiche più alte aumenta in due modi uno il valore dell'immobile sale tra l'8 e il 12 per cento non male seconda cosa invece l'immobile si riesce a vendere ad affittare in una maniera più veloce ed efficiente quindi di fatto abbiamo capito che l'ultima delle soluzioni è che il business che noi stiamo portando avanti con il 110 porta dei vantaggi a tutti porta dei vantaggi a noi che facciamo questo mestiere tolti mal di pancia per il super lavoro che c'è da fare perché immagino che siamo tutti piazzati nella stessa maniera oggi però vince anche il proprietario di casa perché se abita in un condominio riesce addirittura quasi non spendere niente riesce però sicuramente spendendo molto poco a fare degli investimenti molto importanti pensate un lavoro tipico su una casa con un super bonus per cento parliamo di un bonus 110 parliamo di investimenti medi che vanno tra i 150 e i 160 mila euro magari ce n'è giunto 15 però voi pensate di avere in tasca 15 mila euro oggi trovare uno per strada gli dici sentito 15 mila mi dai indietro 150 sì non è poi tanto male entriamo però sulla parte adesso di interventi incentivabili e di come funziona il bonus 110 per cento il super bonus prevede due cose importanti tecniche che devono essere rispettate per poter confermare l'accesso come prima cosa bisogna fare un intervento master o trainante come lo chiama il dm 34 quindi parliamo gli interventi master quindi quelli trainanti e almeno uno di questi deve essere tassativamente fatto sull'immobile parla di isolamento delle superfici opache quindi tutto quello che è muro che da zona riscaldata da verso zona non riscaldata per almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda ante operam vi dico questo perché perché molte volte succede che con il bonus 110 si fanno anche delle altre lavorazioni per cui faccio un ampliamento il requisito del 25 per cento però deve essere calcolato sulla situazione iniziale parliamo invece sul punto numero due che di fatto è sulle parti comuni degli edifici quindi quando parliamo di parte comune parliamo di fatto di edifici che sono plurifamiliari che hanno però un sistema di riscaldamento e di raffrescamento o di acqua calda sanitaria condominiale per intervento di fatto stiamo parlando di sostituzione quindi vado a sostituire la vecchia caldaia e magari riesco a montare un sistema ibrido metto una caldaia a condensazione di nuova generazione ritorniamo invece sul punto numero tre su edifici unifamiliari attenzione è importante perché questo è un altro paletto che la norma oggi prevede e l'agenzia delle entrate nonostante le varie richieste che sono state fatte non ha ancora risposto in questo caso sul punto numero tre quando parliamo di edifici unifamiliari l'intervento trainante è la modernamento dei sistemi di climatizzazione invernale qui il freddo è sparito non c'è più una volta che ho capito quale di questi interventi o quali è perché niente mi vieta sulla mia villetta di fare di cambiare la caldaia e di andare a isolare e quando parliamo di isolamenti parliamo principalmente di cappotti termici oggi perché la norma prevede la sparizione dei ponti termici quindi di fatto quando si parla di insuflaggi oggi dal 2021 non si possono più fare una volta che ho fatto quindi un intervento master ecco che entriamo nel nostro entriamo nella parte che vi interessa di più perché tutti gli interventi di efficientamento energetico che possono essere messi in atto e sono questi sulla destra vanno anch'essi al 110 per cento e insieme concorrono a fare la seconda cosa che è fondamentale per riuscire ad accedere al bonus 110 per cento ovvero prendere l'edificio e fargli fare un salto di due classi energetiche verso l'alto quindi il mio ape deve salire di due classi o andare nella classe migliore possibile facendoci certificare questa cosa da un professionista quindi sono in a non posso salire più di così non posso fare niente di meglio non riesco a farlo salire vado al 110 per cento comunque gli interventi tra i nati parliamo di impianti fotovoltaici quindi parliamo delle ferre delle fonti di energia rinnovabili impianti fotovoltaici pannelli solari infissi schermature solari quando parliamo di schermature solari parliamo sia di tende sia della sola sostituzione della parte esterna dell'infisso quindi o della tapparella o della persiana sostituzione di caldaie building automation dispositivi multimediali e colonnine di ricarica quindi che cosa succede la prima cosa che abbiamo capito questa sera è che il lavoro che noi che voi dovete andare a fare è trainato da un altro quindi non potete lavorare in maniera autonoma con il 110 per cento perché il vostro intervento quando parliamo di building automation e di dispositivi multimediali può essere messo in atto se solamente se viene fatto un intervento master dovrei essere ancora nei tempi non sto guardando ma direi che ci che ci sono ancora una slide di fatto qual è per la nostra esperienza allora parlare di esperienza sul bonus 110 per cento fari dei ripolli perché l'esperienza non ce l'ha nessuno perché questa qua è una cosa che è nata a luglio dell'anno scorso le operazioni sono partite di fatto a settembre ottobre perché prima la normativa non era ancora chiara quindi è un'esperienza piccola ma è un'esperienza diciamo che però abbiamo capito siccome siamo anche una società che fa da general contractor siamo una piccola società che fa da general contractor abbiamo capito qual è la strada corretta per portare uno dei nostri clienti al bonus 110 per cento primo progettare le opere quando parlo di progetto parlo sì di un progetto di un computometro sicuramente ma prima c'è da fare un'altra cosa cioè c'è da capire e quindi bisogna fare uno studio di riqualificazione dell'immobile non c'è dubbio nel senso che è difficile riuscire torno alla slide precedente a naso anche se una persona fa questo mestiere da parecchi anni capire a naso quali sono le cose corrette da fare su quell'immobile dal punto di vista di ritorno dell'investimento dal punto di vista della spesa e di massimizzare quindi la vendita del 110 per cento rispetto a un investimento da parte del cliente e quindi bisogna fare uno studio una volta che è stato fatto questo studio le opere vanno progettate e vi spiego semplicemente come mai le opere vanno progettate perché la vendita del credito di imposta che è quella di cui vi stavo parlando prima di fatto si fa su budget progettuale perché perché chiunque si compri il credito di imposta ed è una cosa che ci interessa perché rende liquido il nostro cliente chiunque si compra quel credito di imposta lo compra sulla carta quindi vuole un progetto esecutivo solitamente questo da questo progetto deve realizzare un computo metrico e vuole che gli installatori o i fornitori creino un'offerta a corpo su quel computo questo è un modello di lavoro che solitamente in italia quando parliamo di case singole non è stato mai utilizzato non lo faccio nemmeno io a casa mia che lavoro per una società di ingegneria cioè questa cosa non l'ho mai fatta chiamavo il mio elettricista gli facevo fare un preventivo gli facevo fare il lavoro punto con il 110 per cento questo sistema non funziona più perché ho il mio cliente ha i soldi in tasca decide di pagare paga lui problema numero uno chi mi certifica le opere nessun progettista farà mai un'asseverazione di conformità su un progetto che lui non ha fatto perché non sa che cosa è successo nessun progettista darà mai la conformità a un impianto dove non ha fatto direzione lavori due soluzione numero due invece come vi ho detto prima il cliente non ha i soldi o non li ha tutti e quindi deve venderlo per venderlo si vende sulla carta quindi il progetto deve essere estremamente importante ed è estremamente importante secondo me che i progettisti parlino con le imprese quando progettano perché sono d'accordo con voi e con quello che penserà secondo me quasi tutta la platea che voi ne sapete molto di più rispetto a un'installazione o a un progetto di questo genere rispetto a un progettista perché lo fate tutti i giorni per noi progettare una casa è una cosa difficile vi devo dirlo pure sacco senza verità meno che non sia un progettista che fa solo quello esiste quindi secondo me anche il lavoro deve essere un lavoro fatto molto di squadra cioè è importante fare squadra su questa cosa e lavorare insieme per riuscire a creare quella che deve essere tra l'altro un'offerta a corpo e lo sottolineo a corpo perché il compratore di credito d'imposta compra il credito a corpo non gli fatturerete non potrete fatturarli soprattutto se è un istituto di credito né un euro in più né un euro in meno di quello che gli avete messo in offerta quell'euro in più se vi serve dovete andarlo a chiedere al cliente ma vi ricordo che il cliente magari sta facendo 150 mila euro di opere ed è già impegnato per quel 10 per cento quindi quei 15 mila euro quindi magari quell'euro in più che vi serve non ce l'ha più e quindi bisogna creare molta attenzione su questa parte mi sembra di avervi raccontato un po tutto stavo facendo mente locale se vi ho detto tutto quello che pensavo di dirvi c'è comunque sia poi una parte di domanda e risposte o question and answers come diciamo noi direi che vi lascio la parola adesso al mio socio mirco in modo che possa entrare un pochino di più nella parte tecnica e poi spazio alle domande per tutti gli lascio non solo la parola ma gli lascio anche la seduta addirittura arrivederci allora inizio tutto buongiorno a tutti buonasera a tutti adesso entreremo un pochino di più nella nella parte poi progettuale perché adesso Gianluca vi ha spiegato un po bene tutto quello che c'è nel mondo 110 sia per quanto riguarda l'impostazione e l'organizzazione di quello che è un lavoro da da portare dalla parte di progettazione fino alla parte di realizzazione deve essere coordinato e organizzato molto bene volevo quello che mi premeva adesso era spiegarti bene quali sono per quanto per quanto possibile una decina di minuti darvi un'idea di quelle che del fatto che ci sono dei requisiti sia globali sia specifici su tutte le opere che che vengono inserite all'interno del 110 con qualche piccola eccezione intervento che viene incentivato senza dover necessariamente eh essere controlti da un punto di vista di requisiti tecnici specifici io mi occupo sono un ingegnere energetico in mi occupo in CREI in particolare della di di efficienza energetica e eh nell'ultimo periodo chiaramente anche di coordinamento del gruppo di lavoro per quanto riguarda la progettazione delle delle opere di efficientamento energetico all'interno del 110 quindi per clienti che sono di tipo residenziale ehm come vi anticipava già Luca precedentemente ci sono dei requisiti fondamentali eh per per accedere al 110 di tipo di tipo globale che sono il superamento delle due classi energetiche tenendo conto di tutti gli interventi che effettivamente saranno realizzati trainanti o trainati e eh che deve essere presente almeno un intervento trainante se parliamo di condominio almeno il condominio deve chiaramente realizzare un intervento trainante per poi poter effettuare interventi singoli poi su sulle singole unità immobiliari chiaramente come diceva Gianluca non tutti cioè un edificio che si trova già in classe energetica A3 non può chiaramente eh fare un salto di due classi deve necessariamente fare il salto di una di una singola classe perché è già in una classe energetica molto molto elevata quindi c'è qualche piccola eccezione sul sul primo dei criteri comunque questi sono i criteri fondamentali poi però ci sono anche degli altri requisiti specifici adesso vi ho inserito una tabella che che descrive quali sono i requisiti specifici per le pompe di calore che sono uno dei dei possibili interventi trainanti o trainati a seconda dei casi per eh per accedere quindi al super bonus le pompe di calore eh è richiesto alle pompe di calore di avere un coefficiente di performance veramente molto elevato eh se prendiamo per esempio un'aria aria eh un COP pari a 3,9 questo valore mh è un valore che che va eh verificato e controllato sia in sede di progettazione con con le schede tecniche sia effettivamente poi anche in cantiere che arrivi la macchina corretta e che venga installata la macchina corretta perché eh se al contrario nel nel detrazioni 65 e secondo i requisiti requisiti minimi per realizzare nuove nuove nuovi impianti nuove di nuove edifici ci sono dei requisiti meno stringenti per il super bonus molto spesso questi requisiti sono più elevati e non tutte le macchine effettivamente in commercio non tutti i prodotti in commercio sono effettivamente utilizzabili con questo scopo ho voluto inserire quello delle l'esempio fisico delle pompe di calore perché eh effettivamente è uno di quei casi in cui il dubbio se un se una macchina in particolare rientra o non rientra è un dubbio che spesso ci poniamo anche in sede in sede progettuale interventi trainanti sono tendenzialmente sono sono due e sono l'isolamento termico delle superfici che possono essere orizzontali e inclinate deve sicuramente sempre superare il venticinque per cento della superficie disperdente se non supera il venticinque per cento della superficie disperdente necessariamente diventa un un intervento trainato anche questo ma anche per questo bisogna stare molto attenti perché chiaramente c'è in gioco se abbiamo un solo intervento trainante c'è in gioco tutto il l'accesso al centodieci se non se le specifiche se effettivamente non vengono eh isolate le superfici che sono state previste a progetto per superare il venticinque per cento avviene un errore di calcolo chiaramente si rischia l'intero super bonus su tutte le opere anche quelle trainate stesso discorso eh vale per gli impianti termici gli impianti termici possono essere ehm parliamo di impianti di climatizzazione la sostituzione integrale parziale di tutti gli impianti di climatizzazione invernale esistenti a patto che ci sia un salto tecnologico quindi ehm parti con quasi tutti quasi tutto il parco immobiliare eh monta delle caldaie specialmente nelle zone nelle aree del nord dove le pompe di calore non garantiscono sempre eh le prestazioni necessarie a soddisfare il comfort interno dell'edificio e quindi ovviamente ehm in questo caso nel lista nel nel fare la valutazione nel definire quale prodotto andare a inserire in un secondo momento bisogna chiaramente considerare eh considerare impianti eh che facciano che permettano il salto tecnologico poi ci sono anche eh scusa un attimo Mirko visto che la domanda inerente eh anticipo un attimino la sezione domande risposte così abbiamo un po' di interruzione televisiva che fa sempre bene ci chiedono via chat è un utente Claudio e l'installazione di una pompa di calore permette di accedere al super bonus? Allora eh come dicevamo prima eh sì può può permettere l'accesso al super bonus chiaramente deve essere eh sostituito integralmente o parzialmente il generatore di il generatore di calore resistente quindi se quello che dicevamo prima se abbiamo una caldaia semplice di riscaldamento la nostra macchina che sia aria acqua che sia aria aria dovrà andare a sostituire l'impianto esistente quindi molti tipi di impianti parliamo per esempio di aree magari del sud della pompa di calore può permetterlo in altri casi magari dopo la verifica si preferisce eh virare su un impianto ibrido che permetta poi di garantire il soddisfacimento dei di tutte le della temperatura di comfort all'interno degli ambienti quindi sì sicuramente è un intervento trainante è un intervento trainante anche se parliamo di condominio nel caso in cui invece abbiamo un nel caso in cui eh abbiamo delle delle caldaie singole faccio esempio di condomini che non hanno impianti centralizzati chiaramente questo tipo di intervento non è un intervento trainante perché bisogna avere bisogna utilizzare l'altro intervento trainante che è l'isolamento delle superfici per poi andare a sostituire le singole caldaie quindi bisogna un attimo analizzare la situazione ma in via generale sì eh chiaramente sui condomini la cosa è leggermente più complicata spero di aver spiegato niente eh poi ci sono tutti gli interventi trainati che ha prima elencato Gianluca vorrei fare un focus su quelli che sono più eh il target del eh di chi sta seguendo questo corso quindi diciamo impianto fotovoltaico accumulo elettrico legato al fotovoltaico la building automation eh di specifico che la building automation per il centodieci per cento deve essere destinata alla termoregolazione poi vediamo un po' meglio cosa significa le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e le pompe di calore le mettono in trainati perché come dicevamo prima in alcuni casi è un intervento trainato se ehm se abbiamo per esempio il condominio con l'impianto non centralizzato la singola caldaietta necessariamente bisogna fare un intervento trainante di tipo diverso e poi eventualmente sostituire la caldaia con una pompa di calore o con un impianto ibrido le pompe di calore eh hanno dei requisiti specifici molto molto stringenti eh ho anticipato prima ehm chiaramente possiamo eh fa dobbiamo effettuare la sostituzione integrale o parziale del vecchio del vecchio impianto ma eh deve essere controllato molto bene il perfetto l'indice di performance nel caso in cui siano impianti con il variatore di velocità l'inverter allora in questo caso abbiamo possiamo riturre del 5 per cento i parametri di richiesta va bene anche sostituire come un intervento trainato gli scaldacqua tradizionali scaldacqua elettrici scaldacqua eh di tipo ehm o a gas per per mettere scaldacqua a pompa di calore che abbia un COP adeguato eh a norma di legge per per il 110. Andando invece su l'altro intervento più importante che ehm relativo relativo a installazioni elettriche eh incentivabile col 110 possia ehm vi volevo parlare un po' volevo approfondire un attimino la questione del BMS vi dicevo prima che questo tipo di intervento deve chiaramente essere eh legato alla termoregolazione quindi noi dobbiamo sicuramente ehm regolare eh gli impianti gli impianti di climatizzazione e l'impianto di riscaldamento e dobbiamo farlo con una classe ehm una classe elevata di eh di efficienza cioè il nostro sistema di termoregolazione deve effettivamente incidere nel nel risparmio energetico dell'abitazione questo cosa significa? Se eh in una classifica che va da secondo una norma 15232 da A a B le case generiche sono sicuramente nella classe nella classe B cioè non hanno un sistema un effettivo sistema di 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 programmazione invece la quello che è richiesto a livello di a livello di 110 è raggiungere come anche per altri incentivi conto termico o decreto 65 o 65 per cento o anche i titoli di efficienza energetica è necessario sicuramente avere una classe una classe B ehm quindi eh dobbiamo sicuramente poter controllare i nostri consumi energetici controllare le funzioni il funzionamento dell'impianto da remoto e poter monitorare la temperatura delle delle aree delle aree sottoposte a regolazione. Per quanto riguarda ehm la programmazione dobbiamo anche garantire una programmazione settimanale da orologio diciamo del del sistema e poterlo modificare anche da remoto. Mirko giusto per per approfondire perché vedo che in due l'hanno richiesto e in termini diversi però vediamo se ti mettiamo un attimino in difficoltà no? Eh visto che conosci molto bene nelle normative noi che siamo di qua un pochettino di meno e ci chiedono cosa significa in senso pratico livello B di regolazione quindi siamo curiosi di vedere come ce lo spieghi in modo semplice no? Ok in senso pratico ehm andare ad avere una classe di regolazione B significa ehm significa poter ehm controllare sicuramente il sistema da remoto come come dicevo poc'anzi e eh eh significa che ehm le singole stanze quindi la per esempio se noi abbiamo il classico impianto a pavimento con una con una con la regolazione delle temperature stanza per stanza io devo poter da remoto controllare tutte le stanze e avere l'indicazione da remoto di qual è la temperatura effettiva di quella stanza. Se non sono in grado di fare di fare questo con il mio sistema chiaramente sono in una classe di di una classe di regolazione di tipo C quindi o perché mi manca la remutazione o perché comunque la singola zona non è in grado di comunicarmi dalla dall'esterno la 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 cosa. Se eh invece voglio arrivare a una una classe di elevate prestazioni quindi una classe di regolazione A necessariamente significa cosa significa qual è la differenza rispetto alla B significa avere eh non soltanto un controllo della temperatura e delle delle grandezze importanti di zona ma significa che questo controllo viene effettuato anche in maniera automatica in funzione della presenza o non presenza delle persone quindi il sistema sa che non c'è la persona sul posto eh lo lo da eh chiaramente da un segnale tale per cui la valvola si chiude si attenua la temperatura e si va in una logica di non presenza delle persone quindi un risparmio ulteriore. Nella classe B invece devo poter fare tutte queste cose da remoto non è necessario chiaramente che sia che sia tutto a questo livello invece di automazione chiaramente. Spero di avervi risposto. Chiarissimo, chiarissimo, promosso, chiarissimo. Ok. Grazie. In generale giusto per darvi un'idea adesso eh vi faccio vedere questo questo piccolo schema ehm il questa è la situazione richiesta per cercare di di per ottenere una classe di una classe di regolazione B eh cioè avere tutte le varie zone con i loro sistemi dedicati di attuazione in campo eh per poter quindi comandare effettivamente e incidere sulle 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 temperature delle dei vari locali adesso faccio un esempio delle temperature ma possono essere anche per grandezze se se presenti quindi potrebbe essere anche la ventilazione per esempio e eh e che questo deve essere chiaramente definito per esempio dal cronotermostato il cronotermostato deve deve essere chiaramente controllato comunque gestibile da eh una logica globale e che e questa logica globale devo poterla ricevere anche da remoto devo poterla controllare da remoto il tutto chiaramente parla se abbiamo un sistema centralizzato con eh il sistema di generazione centrale in questo caso è indicata per esempio una caldaia e le varie pompe di circolazione e le valvole central termica quindi il tutto è chiaramente gestito e pilotato da remoto il se non ho approfondito in questa in questa breve presentazione altri altri elementi come per esempio il fotovoltaico l'accumulo elettrico le colonnine perché perché sono elementi che sicuramente incidono sul 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 110 e su uno dei criteri più importanti è quello del salto di due classi pensate ibrido pompa di calore fotovoltaico riusciamo ad ottenere effettivamente dei grandi avanzamenti di e dei grandi risparmi energetici in termini di eh di emissioni inquinati per quanto riguarda però questi questi interventi sono interventi incentivati in cui non ci sono eh delle reali richieste in termini delle reali richieste tecniche bisogna progettare realizzare l'impianto tendenzialmente come come abbiamo sempre fatto non ci sono delle eh l'unica l'unico limite effettivo è quello della potenza che non si può non si può realizzare col cento dieci eh oltre oltre venti kilowatt e poter incentivarsi a me vi ringrazio intanto per l'attenzione spero di essere stato sufficientemente chiaro e nei tempi grazie Mirko sì siamo tanto ci avviciniamo alla parte finale adesso entriamo nella sezione delle domande e a qualcuno abbiamo risposto abbiamo risposto via chat diciamo e altre domande le ho appuntate adesso eh ve le farò così possiamo rispondere sono domande di rilievo se qualcuno non dovesse ricevere risposta comunque sarà nostra cura prenderla in carico rispondervi via mail o addirittura con tramite il contatto di un consulente per gli argomenti da approfondire quindi eh nessuno rimarrà senza senza una risposta e per entrare nel dettaglio allora mi chiedono ci chiedono i moduli tapparelle devono per forza essere connessi parlando di schermature solari dobbiamo ricevere se dobbiamo riuscire a garantire una classe una classe di i moduli tapparelle devono sicuramente non soltanto tenere conto del della situazione esterna quindi del del dell'illuminamento dall'esterno e quindi eh magari muoversi di conseguenza ma devono anche essere pilotabili dall'esterno quindi eh direi di sì questa è una domanda che ti faccio io ma devo poter anche controllare quindi da remoto lo stato della tapparella non solo aperto chiuso ma anche la la parzializzazione cioè non solo tapparella è aperta al 30 per cento 50 per cento qui eh andiamo andiamo sulla finezza ma direi sicuramente l'aperto chiuso l'aperto chiuso come a sapere lo stato della della situazione a livello di abitazione sicuramente diciamo che se che se abbiamo in più la possibilità di sapere il livello adesso sulle tapparelle potrebbe bastare l'aperto chiuso chiaramente se abbiamo degli oscuranti di quelli per esempio lamellari che vengono regolati allora lì è importante proprio per il tipo di sistema avere questa questa informazione chiaro ok e altra domanda di interesse nel caso di isolamento termico anche le spese edili di scavo e murature per i pannelli sono ammessi al super bonus? dai tu vai Gianluca rispondo io su questa allora ho messo in difficoltà Mirko eh quindi no ho scelto una domanda è difficile bisogna farsi una domanda molto semplice quando si parla di quali spese rientrano nel super bonus 110% la domanda è una e una sola soltanto è posso fare quest'opera senza fare quest'altra? cioè posso inserire nel sottotetto di questa casa dell'acquibentazione che è piena di merda di piccione? no e quindi devo sistemare quindi devo pulire il muro lo devo raschiare tutta la preparazione tecnica per la posa posso posare se non faccio questa preparazione? no non avrei una corretta posa e quindi il professionista direbbe che non è posato correttamente quindi si rientrano tutte ed è proprio per questo che i massimali a volte vanno a pallino perché posare un cappotto costa 50, 60, 70 euro metro quadro eh finito voglio dire ma sono tutte le altre lavorazioni che ci girano attorno che fanno crescere questo prezzo quindi la domanda è semplice è posso fare questo lavoro se non faccio quest'altro? c'è un allarme appiccicato devo fare il cappotto smontare l'allarme e rimontarlo è un'opera 110? il cappotto lo puoi montare senza smontare quella roba lì? no allora va a 110% per l'azione preparatoria per il montaggio risposta chiarissima e arrivo a un'altra domanda che abbiamo selezionato tra le tante è tra i lavori dell'elettricista questa è una domanda generica ma penso che sia molto utile tra i lavori dell'elettricista quali possono rientrare di standard nel super bonus? forse è una domanda generica difficile però no non credo di averla capita però tra i lavori che solitamente l'elettricista fa all'interno di un'abitazione io la leggo così quali possono rientrare di standard nel super bonus? impianti fotovoltaici tutta la parte di forza sulle macchine quando faccio un cambio metto una pompa di calore o altro e tutta la parte di sistemi di controllo HVAC quindi della temperatura e tutto quello che è building automation come ha detto Mirko legato al controllo del comfort diciamo della casa ancora arrivando la merita di domande dell'ultimo secondo prendo qualcuna così senza filtrarla prima sulla sostituzione di un impianto videocitofonico condominiale ed è traibile come singolo condomino appunto di domanda questo lo chiede Antonio allora Antonio è un'opera è una sostituzione allora non è un 110% perché non parliamo di energia ok se l'impianto è condominiale allora devo dire una verità che sta un po' alla sensibilità dell'amministratore quello che vedo fare io di solito è una divisione per millesimi ma è un 50% non è una detrazione 110% perché non parla di energia ok quindi è un normale bonus 50% è detraibile ah importante anche le detrazioni 50-65% possono vendere non solo il bonus 110% può essere venduto quindi l'investimento può comunque sia calare comunque Aldo chiede se uno deve installare solo i condizionatori rispondo io è il discorso che ci facevamo prima nel senso che sicuramente se è una sostituzione integrale o parziale di quello che è il generatore esistente può essere considerata deve essere valutata dal tecnico ma potrebbe essere un intervento trainante o trainato all'interno di un 110% alternativamente l'installazione di un climatizzatore inteso in senso stretto come un climatizzatore non rientra all'interno del 110% può essere un'opera parallela a quella di ristrutturazione dell'edificio all'interno di un 110% ma andrà al 50% faccio l'ultima domanda se no andiamo fuori dicevi Gianluca attenzione ricordatevi che anche il 50% richiede la pratica edilizia quindi ricordatevi sempre questo il titolo autorizzativo è importante che non siamo abituati a farlo chiamo il mio elettricista e mi faccio montare il condizionatore sì no bonus se l'impianto videocitofonico in formato IP usando la fibra ottica e quindi realizzare un impianto un uti servizio può finire nel 110% è un trucco allora è ovvio che se faccio un sistema di building automation di nuova generazione tutta la parte di traccia e di linea non servirà solo quello non servirà solo la parte di gestione dell'immobile dal punto di vista termico ma magari porterà anche delle altre cose e questo è un trucco è un trucco che i progettisti ma lo fanno cioè è un trucco non si fa niente di male nel senso che magari tutte le tracce tutte le linee tutti i cavi tanto per capirci li butto nel 110% perché perché poi metto quegli apparati in più che mi servono che non fanno parte del 110% però magari le linee me le sono tirate già tutte chiaro chiaro e Mirko e Gianluca mi sono tenuto per ultimo la domanda un pochettino più inerente a Urmet che è la domanda che nei commerciali aspettavamo qualcuno alla fine l'ha fatta intanto chiedo scusa le domande alla fine sono arrivate tutti insieme se qualcuno non ha ricevuto risposta la riceverà nel breve tempo quindi da Urmet o da 3i dipende chi è in grado di rispondere meglio no quello che alcuni di voi ci hanno chiesto ma immagino che ve lo siate domandati tutti è va bene abbiamo capito il aspettate che ci perdo un attimino ma carico magari le slide così e le vediamo ok dovremmo esserci allora quello quello che alcuni di voi ci hanno chiesto è semplice nel senso abbiamo parlato insieme alla 3i del 110 di quali sono le opere trainanti e di quello che può essere trainato ma in funzione di Urmet la domanda è molto semplice quali prodotti Urmet possono finire diciamo all'interno del discorso del 110% quali possono essere trainati quindi un po' come diceva Gianluca adesso sul finire sicuramente il monitor di building automation finisce nel discorso il nostro monitor IP 7 pollici max può essere trainato così come tutti i dispositivi di attuazione tapparelle schermanti tende da sole i cronotermostati o il cronotermostato o i cronotermostati e l'hub per la connessione da rimoto da remoto del sistema se guardiamo questa slide sulla diciamo sulla parte destra abbiamo fatto il render di un'abitazione abbiamo ambientato il max il max per mezzo della sua interfaccia utente di un'interfaccia fine che si chiama ino che poi di fatto è la stessa interfaccia che troviamo sui dispositivi remotizzati quindi sullo smartphone sul tablet possiamo andare a comandare i dispositivi all'interno dell'abitazione parlando di 110 appunto le tapparelle le tende da sole oppure la parte del comfort visto come regolazione di temperatura quindi il cronotermostato ovvio che abbiamo toccato per un attimo anche il discorso di altre parti impiantistiche che vanno poi a finire all'interno magari non del 110 ma in questo caso parlando di bonus sicurezza 50% c'è sia la parte di antintrusione che la parte di tv circuito chiuso quindi davvero il nostro monitor di building automation diventa un po' il centro del sistema che riesce a regolare a 360 gradi il comfort dell'abitazione quindi se parliamo di temperatura possiamo andare a regolare per quello che era il livello B classe B il comfort per la singola zona per la singola stanza ed avere un feedback da remoto ma possiamo anche andare a attivare degli scenari magari sulle tapparelle delle tende da sole che si potrebbe chiamare non lo so degli scenari automatici sole perché ho il salotto disposto a sud e dopo una determinata ora il sole ribattendo riflettendo sul vetro mi scalda quella stanza e in automatico posso andare a pensare di abbassare la tapparelle al 50% e di aprire la tenda da sole quindi le cose che possiamo andare a implementare sono molteplici sia ambito 110% che il resto era anche giusto entrare un po' nella specificità guardando velocemente così evitiamo di andare troppo lunghi alcuni esempi applicativi c'è il controllo semplice puntiforme di una caldaia quindi qui vediamo la soluzione più semplice il crono termostato che mi comanda un modulo di office che va a disattivare la caldaia lo possiamo fare in locale tramite il crono da remoto tramite uno smartphone o un tablet senza dimenticarci il fatto che l'interfaccia remota è la stessa che andiamo a utilizzare sul monitor max se ci volessimo complicare un pochettino la vita possiamo farlo a multizona quindi laddove filarmente le elettrovalvole sono collegate ad una caldaia e poi localmente nelle variazioni possono stare a comandare con il crono termostato la singola zona sia da locale che da remoto stesso discorso lo possiamo fare anche con con le tapparelle il locale col monitor con i tasti di attivazione locale salita e discesa oppure dalle moto tramite lab e quindi adesso per arrivare in perfetto orario e prima di passare alla parte ringraziamenti vi ricordo che il 26 maggio alle 18 abbiamo un altro webinar fissato che parlerà di antiintrusione radio presenteremo lì la nuova centrale 10 51 911 ci farà piacere rivedervi numerosi come stasera por due miei ringraziamenti e gli faccio i complimenti per le competenze sia a Luca che a Mirko quindi ai ragazzi della 3i che sono stati squisiti ma anche a voi che stasera siete stati qui che ci avete dedicato del tempo e avete avuto voglia di formarvi con noi il corso ovviamente il corso la presentazione era un'infarinatura molto veloce la nostra modalità operativa rimane sempre la stessa quindi avete capito qual è l'opportunità come funziona se si presentasse qualcosa di interessante l'invito è quello di sentire il consulente tecnico a voi dedicato il consulente tecnico di zona o l'agenzia sarà poi nostra cura lavorare insieme e andare a profittare dell'opportunità che si presenta quindi per chiudere vi ringrazio a nome mio e a nome di tutta la famiglia Urmet e di tutti i colleghi Urmet e grazie e al prossimo appuntamento grazie a voi arrivederci arrivederci grazie grazie buona serata